Salve ragazzi, sono Andrea Bruno, il nostro giro per Kuala Lumpur continua. Siamo qua ancora una volta per i negozi a guardare un po' le cose che vengono. Ecco qui, le riproduzioni delle Petronas Tower. È pieno di negozi con oggettistica interessante. Qui sono degli insetti, degli insetti... Guarda, sono gigante. Adesso non so se si riesce a capire le proporzioni venendo a casa dalla camera. Ecco, questa è la mia mano, guardate. La mia mano, giusto per capire la proporzione. E qui è veramente il mercatino delle cose inutili. Oggi c'è un caldo, un caldo affoso, il classico clima equatoriale che caratterizza queste giornate con una umidità pazzesca. I vestiti si attaccano addosso. Tutto quello che tocchi è umido. E qui, questa è proprio la rassegna del posto delle cose inutili. Guardate qua cosa inventa. Un apparecchio per umidificare l'aria. Ma mi chiedo io, ma cosa ci farà mai qualcuno qui a Kuala Lumpur con l'apparecchio per umidificare l'aria quando già tutto è umido e tutto ti si attacca addosso. Ecco, questa è la rassegna dell'incredibile, delle cose inutili. L'oggettistica inutile qui la fa da padrona. Ecco, qui abbiamo altre cose. Il mio giro continua. Ma non starò a mostrarvi tutto, altrimenti questi clip non finiscono più. Ecco, solo un piccolo giro panoramico. E chiunque verrà in questo posto, in questa città molto variegata, avrà la possibilità di assaporare tutte queste cose, questi oggetti, dalle caratteristiche esotiche. Le abbiamo già viste in Cina, le abbiamo già viste in altri paesi asiati. Cosa che troviamo anche in Italia, qui sono tutte esposte alla massima potenza. È il paese dell'oggettistica, per così dire, inutile, le borse di plastica. Ok ragazzi, il nostro giro continua. Ci sentiamo alla prossima. Ciao!